Esti è deciso di ricandidarsi, iniziamo dal perché. Perché mi sembra normale e doveroso per una lista uscente ricandidarsi per poter dar continuità ai propri progetti e alle proprie idee che in cinque anni non sono state realizzate. Abbiamo dimostrato in questi cinque anni la nostra capacità, la nostra trasparenza, la nostra onestà. Siamo stati penso una delle pochissime amministrazioni comunali che hanno lasciato le proprie indenità di carica a disposizione della comunità. E questo verrà riconfermato anche in caso di un'eventuale nostra riconferma. Questo perché penso che chi si candida non lo fa per obbligo, non viene imposto a nessuno, ma lo fa puramente per passione. E in un comune come Solto, in cui si riesce liberamente a svolgere la propria attività, l'andare a amministrare non deve essere un modo come per impingare il proprio portafoglio. Ho formato una nuova lista, una lista di gente veramente competente. Non bisogna assolutamente essere giovani, non stiamo andando a fare una corsa campestre o una maratona, ma servono delle persone che affiancano il sindaco, che è la figura politica di un'amministrazione comunale, e che queste persone debbano trasferire la propria professionalità lavorativa, la devono trasferire a livello amministrativo. Infatti mi sono circondato per esempio da una commercialista per quanto riguarda il bilancio, mi sono circondato da un imprenditore per quanto riguarda i lavori pubblici, mi sono circondato da un ragazzo che all'interno dell'unione sportiva per quanto riguarda lo sport e il tempo libero, mi sono circondato da un ex vigile municipale per quanto riguarda la sicurezza e il sociale, e inoltre da un gruppo di ragazzi, i quali, visto che non si nasce imparati, devono fare altro che farsi esperienza, prendere questa mia etica, in modo da poter in un futuro dare vita a una nuova amministrazione, sganciandosi da quelle persone che da 40 anni sono sempre e cercano di rimanere aggrappate alla vita amministrativa. Abbiamo fatto il postilato di programma che non è altro che la prosecuzione del programma di questi cinque anni, un programma che è a misura del cittadino, solto non ha bisogno di grandi opere ma ha bisogno appunto di essere di piccole cose che rendono fribili al cittadino. Come nella passata amministrazione abbiamo pensato all'ambulatore, abbiamo passato alla piazzola ecologica a fare parte di marciapiedi, quello che serve ora nel nostro programma è finire il peripro di marciapiedi, cambiare le poste in modo da togliere le barriere architettoniche, insomma tutto ciò che rende il cittadino semplifica la vita dei cittadini. Grande attenzione al territorio, l'abbiamo dimostrato già con il nostro PGT dove abbiamo ridotto al minimo gli indici di edificabilità perché la nostra fortuna è il territorio in cui siamo ubicati e quindi abbiamo reso meno appetibile per gli immobiliari la nostra collina e quindi evitando quello che è successo negli anni passati che ce l'hanno un po' rovinata. Sicuramente non faremo come è stato fatto in passato, non faremo mai costruire un capannone in centro alla collina a confine con le zone residenziali. Grazie.